vorrei provare a dare una giustificazione meta empirica del lutto sarà un appunto più che un discorso organico un promemoria forse un po' patetico e banale ma non ha importanza dunque lì nei principi potremmo dire che lutto si dà quando una persona cara muore o cambia o ti abbandona forse cambia, è il termine corretto prima c'è un mondo poi c'è un altro mondo e in mezzo ci sta il lutto ora è chiaro che se dopo il lutto il mondo cambia questo vuol dire che la persona cara che è venuta meno dando luogo al lutto era la persona che ti teneva su il mondo io insisto spesso su questo punto io non sono il mio corpo io sono il mio mondo certo il mio mondo prende coscienza di sé io sono il mio mondo attraverso quelle aperture sul mondo che sono i miei organi di senso cioè il mio corpo ma che il corpo, il mio corpo sia il punto zero a partire dal quale il mondo il mio mondo prende coscienza di sé non vuol dire che io coincida con il mio corpo cioè che io sia una parte del mondo io sono il mio mondo non sono una parte di esso se non fosse così io non potrei conoscere nulla del mondo inoltre se non fosse così se io non fossi tutto il mio mondo non si capirebbe il perché del dolore che si prova nel lutto il lutto non mi toccherebbe se io fossi il mio corpo e non il mio mondo o quantomeno il lutto non sarebbe così pervasivo tanto pervasivo da ridurre il mio mondo in macerie pensaci una persona cara cambia non c'è più esce di scena lutto tu soffri ma quella sofferenza si porta con sé tutto il tuo mondo è tutto il mondo che soffre è tutto il mondo che cambia la maggior parte degli avvenimenti che accadono fanno rimanere inalterato l'orizzonte complessivo di senso che ha il mondo mentre quando viene meno la persona cara tutto è scombussolato tutto è fuori ordine prima c'era il mondo popolato dalla persona cara poi c'è il lutto ed il mondo che ti trovi dopo il lutto non è lo stesso mondo di prima ora se la persona cara coincidesse con il suo corpo e quindi appunto se stabilissimo l'identità io uguale corpo e non io uguale mondo bene se la persona cara fosse semplicemente il suo corpo il mondo che avrei dopo il lutto dopo il cambiamento l'avvenuta meno della persona cara sarebbe lo stesso mondo di prima solo con una persona in meno il punto è che palesemente non è così quindi il lutto pervade il mondo il mondo dopo il lutto non è il mondo prima del lutto con una persona in meno è un mondo totalmente nuovo un mondo in macerie il lutto ti fa scoprire che la persona cara teneva su tutto il mondo non era una parte dopo il lutto cambiano tutti i significati del mondo è un nuovo mondo la sofferenza deriva dallo sforzo di dover ricostruire il mondo donare un nuovo senso al mondo certo che il mondo ce l'hai ancora davanti dopo il lutto certo che sei ancora quel mondo ma questo mondo che sei è un mondo nuovo un mondo che ha un tratto peculiare il mondo superstite che sopravvive al lutto ha una caratteristica distintiva è un mondo che fa schifo non è solo mancante della persona cara che è venuta meno fa schifo nella sua interezza di qui lo sforzo di partorire un nuovo mondo di trovare un nuovo senso a questo mondo superstite a questo mondo infrantumi di solito si preferisce mantenere il vecchio mondo dopo il lutto almeno per un certo periodo in fin dei conti se l'io non è il corpo la venuta meno fisica della persona cara non è la venuta meno della persona cara io la persona cara la posso per esempio ricordare posso fantasticare su di essa ed è quello che di solito facciamo dopo il lutto ascoltiamo per esempio le canzoni che ci ricordano una persona cara credo fosse in sostiene Pereira di Tabucchi che il protagonista parlasse ogni giorno con la fotografia della moglie morta proprio in quanto la moglie morta non era il suo corpo ma era l'insieme dei significati che portava con sé per il protagonista del romanzo proprio per questo il protagonista poteva parlarci ancora poteva averla ancora davanti come fulcro attorno al quale poter costruire il proprio mondo come significante in un certo modo come significante nella direzione e per cioè in vista della persona cara certo un oggetto fantasticato o ricordato non è meno reale di un oggetto che esferisci mediante i sensi una cosa o esiste o non esiste una cosa rammemorata per il fatto per il fatto che la sto rammemorando la sto intenzionando e dunque esiste però c'è un però è il mondo che impone i suoi vincoli sulla base dei quali diamo senso al mondo il dono dei vincoli diceva Roberta De Monticelli certo la persona cara non era il suo corpo non coincideva con il suo corpo ma era la trama di risultati che costituivano pervasivamente il mio mondo in quanto significante per la persona cara in vista della persona cara tuttavia i vincoli a partire dai quali io davo il significato al mondo erano offerti dalla fisicità della persona cara è il corpo che ha dei vincoli a partire dai quali io poi do un significato quei vincoli sono imposti dal mondo che esperisco nella misura in cui immagino la persona cara dopo il lutto io le faccio dire ciò che voglio io non c'è nessun attrito dato dal vincolo nella fantasia ma pensa allo stalker lo stalker è uno che soffre un lutto e che non riesce a partorire un mondo nuovo cosa fa lo stalker lo stalker va a seguire pedinare la persona cara perché non si accontenta di fantasticarla lo stalker ha bisogno dei vincoli offerti dal corpo della persona cara per continuare a dare senso a quel mondo infrantumi che si ritrova davanti dopo la venuta meno della persona cara dopo il lutto allo stalker l'oggetto caro fantasticato non basta quindi ricapitolando il mondo ha dei vincoli e Dio sono quello che dona senso a quei vincoli a partire dal mio corpo e Dio non sono parte del mondo giacché l'orizzonte di senso entro il quale il mondo appare a sé non è un oggetto del mondo il lutto è uno di quei pochi episodi in cui l'orizzonte di senso complessivo crolla non certo a causa della venuta meno di un corpo il corpo della persona cara ma a causa della venuta meno della ragione per la quale il mondo aveva quel significato non quell'altro il lutto non è la venuta meno dell'oggetto caro ma è la venuta meno dell'oggetto caro in quanto oggetto attorno al quale si è costruito un ordine meta-empirico di senso credo che posta in questi termini si possa comprendere la drammaticità del lutto giustificata non su un piano empirico quindi psicologico antropologico sociologico quello che volete voi ma su un piano meta-empirico un piano